E ciao a tutti, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video di GTA Online Quest'oggi dopo aver esplorato lo scorso episodio la nuova base personale e operativa Non so di piacere com'è che si chiama, dopo aver bevuto del buon vino Vedete qui del buon, del buon vino, ma beviamolo un po' di vino ragazzi, il vino è buono Il vino è buono, se siete minorani certo non potete berlo Però fidatevi che il vino è buono, ci sono tante cose belle riguardo il vino Forse potete farci un video addirittura sul vino Non sono ubriaco, ne giuro, però è molto, il vino, vabbè Parliamo di cose serie In questa puntata di GTA Online andremo, oltre a contare i nostri bellissimi soldi Andremo a comprare uno dei nuovi veicoli che sono disponibili in questa nuova versione In questo nuovo DLC di GTA Online Che si chiama il colpo della, come si chiama, dell'Apocalisse Il colpo della Apocalisse Come vedete ci sono davvero un paio di oggetti interessanti Tra cui l'Avenger, l'Avenger che io ho chiamato gli Avenger Anche se alla fine era un casino boia Dov'era? Non lo vedo più neanche C'è il volator ma non è quello che interessa a noi Avenger 3 milioni e 4 Niente male, ecco, come costo iniziale 3 milioni e 4 Tra l'altro vedete che si può già modificare con tutte le cose Puoi fare gli interni di colori diversi Però direi che la base va più che bene Forse nero sarebbe più carino Però grigio-nero, insomma, non è che cambia molto C'è la torretta armata Costa 200k ed è molto easy da usare E poi c'è l'officina per modificare alcuni oggetti all'interno dell'Avenger Che non so bene com'è che funzioni Poi c'è anche l'armeria In cui puoi fare armi, penso Oppure puoi collezionare le tue armi Quindi se fai officina e torretta armata e tutto quanto In totale costa quasi 5 milioni, ragazzi Non è proprio una spesa da 4 soldi 5 milioni di dollari per un elicottero Però a noi non interessa questo Torniamo dalla home, andiamo su Worldstock E andiamo a comprare invece una cosa molto interessante Il thruster Il thruster Perché il thruster? Leggiamo la descrizione Fini dal primo momento in cui l'uomo ha alzato gli occhi al cielo Ha desiderato fluttuare libero Sorvolando pacificamente gli imbottigliamenti nell'ora di punta Senza alcuna protezione a dividono dall'assordante Instabile combinazione di carburante e fiamme Oggi quel sogno è diventato un'arrogante realtà Che cosa stai aspettando? Attenzione, questo veicolo deve essere conservato in una base operativa e personale Modificato per le sue officine della base stessa Ok, io direi andiamo ad acquistare Ah, boia, così? Io volevo prima vedere se c'erano cose da modificare o no L'ha comprato direttamente Oddio Va bene Allora, questo Vi spiego perché lo sto comprando Non perché mi serva Perché in realtà non penso neanche che mi serva Tuo nuovo jetpack sarà presto consegnato da base operativa Dove potrei anche modificarlo Questo l'ho preso perché mi ricorda tantissimo GTA San Andreas Molti di voi non conosceranno neanche questo gioco Però GTA San Andreas È un gioco molto, molto bello Che risale ormai ai primi anni 2000 E la grafica ovviamente era tutta un'altra roba Ma era proprio come GTA Era un GTA È il GTA forse più iconico Perché era inventato a Los Angeles E c'era anche tutta la zona tipo Las Vegas Con i casino, le cose Era molto, molto bello E all'epoca io ci giocavo su PlayStation 2 Se non ricordo male C'è un tesoro Mi appena arrivato via SMS un tesoro Caccia Avenger disponibile, non mi interessa Caccia al tesoro Ehi, dove è sto posto? Potrei anche andare a cercarlo Però sono più curioso Andare a prendere la mia bellissima roba Vabbè Perché non parte con il nostro? Oddio Dicevo E in questo gioco c'erano i trucchi Io per prendere i trucchi di GTA San Andreas Vi racconto una storia ragazzi Andavo in biblioteca Perché a casa non avevo ancora internet Quindi tu giocavi sulla PlayStation Ma non c'era internet Tu avevi il disco E lo mettevi dentro la console E giocavi Non c'era modo di scaricare i giochi online O di parlare con altre persone Se non tramite telefono Ma comunque spendevi un botto di soldi Quindi nessuno lo faceva Quindi com'è che si andava a fare le cose su internet? Era una biblioteca Io mi ricordo che spendevo una cosa tipo 20 centesimi all'ora O cosa del genere Per utilizzare il computer E sul computer Scaricavo i codici Per usare i trucchi All'interno di GTA San Andreas E io e mio fratello Ci siamo messi a usare i trucchi E uno dei trucchi Quello più usato potenzialmente Era quello del jetpack infinito Perché il jetpack si poteva trovare Facendo alcune missioni Un po' come tutti gli oggetti Però E con i trucchi era tutta un'altra roba ovviamente E facevi spumonare gli elicotteri Facevi spumonare i panzer Che sono i carri armati Cioè davvero Facevi le peggio robe Le peggio robe Se voi avete mai giocato a GTA San Andreas Scrivetemelo qua sotto Nei commenti Assolutamente Facciamo Hashtag Crew San Andreas In realtà io avevo anche un oppressore In questo gioco una volta Poi non so Mi viene tipo scomparsa o esplosa Non mi ricordo di preciso Allora scendiamo qua sotto Ed entriamo Ah c'è anche un'altra macchina Posso entrare direttamente con Sì vai Entriamo con la vigilante Guarda con le sospensioni Quindi appena ho visto Che ho raggiunto il thruster No? Che è questo jetpack Bellissimo e fighissimo Ho detto Non posso non prenderlo E non giocarci Ora voglio vedere Com'è che funziona Perché il jetpack di GTA San Andreas Era forse la cosa più OP Cioè Potevi farci le peggio robe davvero È davvero molto 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 forte Ah questo Ah cacchio Ma io la mia oppressore qui Non è una cosa positiva Eccolo ragazzi Eccolo il thruster No aspetta è questo? Sì è questo E questo è questo Ora sembrano un robottino Però in teoria Se io faccio Premo F Posso andare all'interno di questa cosa Premi E per accedere all'officina Della base operativa O io direi che Abbiamo un bellissimo headset Allora esploriamo questo coso Dietro c'è la marca Che è Mammoth Ci sono due motori enormi I motori stanno già girando A velocità minima Che sono dei razzi Praticamente C'è anche uno stand Quindi riesce a stare in piedi Perché in effetti Sto coso pesa Tenerlo sulla schiena Non penso che nessuno sarebbe capace Ma Oltre a questo Allora Premo E Per accedere all'officina E vediamo che cos'è Che possiamo fare Con questa roba Per il resto dell'episodio Sposterò la webcam Nella parte destra Così potete vedere Tutte le cose che faccio Armatura Abbiamo l'armatura 20% 40% E 60% Io direi Compriamo l'armatura Anche se non Cioè magari Se sbatti Non Non è tanto Diciamo Non fai tanto danno Potenziamento ICU Livello 4 33.000 dollari Prendiamo subito Il livello massimo Di questa cosa Contromisure Schaff Flare Flare costa 110.000 Prendiamo il flare Cioè avere 0 contromisure Costa 700 dollari Cioè che cacchio Perché dovrei comprare la cosa Che costa 700 dollari Se non mi da niente Livrea Vediamo Ah possiamo aggiungere Qualche effetto figo A me piacerebbe cambiare colore Più che altro Verniciature Colore principale Ehm Colore della crew Che è bello giallo Diciamo che così La gente mi vede di sicuro Colore secondario Io direi Non sempre più Prendiamo colore dei classici Mettiamo dei colori Rosso e viola Tipo lakers Boom Viola chiaro Perfetto Armi Minigun doppia O missili Oh mio dio Posso comprare tutte e due Ok ok posso scegliere Oddio raga Sto spiegando soldi A manetta Cioè a cambiare da uno all'altro Mi consuma Soldi su soldi Propulsione Yatul Nos Ma raga Mi è Probabilmente mi è costata Quasi Trumilioni e mezzo Sta roba alla fine Però dovrebbe essere Una bestia Esci dall'officina Esci dalla base operativa A bordo di questo veicolo Si Usciamo signore e signori Vediamo Oddio posso volare Ragazzi sto fluttuando Oddio no no Non sparare Premi per lanciare i flare Ok Così se ci sono dei missili Non riescono a capire Che cosa sto facendo Allora Io voglio capire Come faccio Non andare avanti Ah Devo usare il mouse Devo avere anche il mouse Con Control Shift Come uso il mouse Bella domanda Che figata ragazzi Ho il jetpack E posso anche sparare con i missili Ora Ho una domanda però io Cioè si questo coso va abbastanza veloce Dire il vero Posso spegnere anche i motori Se spengo i motori Scendo Scendo Rimango Anche lì perché anche con i motori spenti Ah no vabbè non sono spenti Sono al minimo Allora ragazzi Io direi che il jetpack è una figata pazzesca Certo Oi 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 Attento Attento Devo imparare a guidarlo Ovviamente Perché non è così facile Allora con spazio lancio i missili Ma non voglio lanciare i missili Voglio usare il Il Come si chiama Il nos Allora dov'è casa mia Che posso atterrare Mi sa che è quella lì Posso richiedere un bombardamento Chiamandola Maryweather Addirittura Ragazzi stiamo un po' calmini Allora proviamo ad atterrare per strada E spogliamo per bene Questa roba fighissima Che ci ritroviamo Allora diciamo che figo è figo ragazzi Eh Diciamo che figo è figo Bisogna capire come usarlo Ma Mi sta Sbaglio mi stanno sparando Raga mi stanno sparando Cosa Graffinia Style mi ha eliminato Eeeh Ma piccolo bufu Il mio veicolo personale è stato distrutto Martacci Vedi te se mi tocca chiamare subito l'assicurazione E' bello che mi farà pagare i soldi sicuramente Ora in teoria se faccio così Vado su veicoli Posso richiedere il veicolo personale Quale veicolo personale però Non un cuban spero Ah eccolo qui è tornato è tornato C'è anche un camion Dei rimorchi Comunque si Saliamo a bordo del nostro bellissimo coso Posso volare Giusto? Fammi volare E posso anche sparare Con i razzi Certo un po' difficile sparare questo robo però Anche perché non è Ah missili guidati Allora prima cosa leviamoci da qui perché Da come ho capito c'è qualcuno che sta giocando di spararmi Oh cacchio ma qua c'è qualcun altro Ciao bello Ah Ho ucciso Oddio ho ucciso uno che aveva la mia stessa roba Scappiamo Questo si vuole vendicare sicuro Allora di sicuro è molto più tamaro di quello originale Quello originale è molto più tranquillo Comunque Questa è una tamarrata unica ragazzi Allora andiamo ad aeroporto Ah una cosa sicura Essendo un mezzo che vola Che può essere facilmente recuperato perché te lo mette in strada È comodo Di base è comodo Non è velocissimo Però Ehi Il club dei 10.000 metri Mi ha dato dell'esperienza Ah perché ho volato per 10.000 metri È vero questo è un veivolo La facciamo ad atterrare Finora l'ho ancora tentato un atterraggio Vai con calma Oh perfetto E schiere Posso uscire da qui Metta la caduta più lunga senza morire Ma non ti preoccupare Allora Io direi Vediamo i dettagli di sta roba Ci sono le cinture Ho ancora una bandiera italiana? Ah no Sembrava una bandiera italiana però Ma io ho una domanda Se la caduta più alta senza morire Vuol dire che uno deve avere il paracadute Io il paracadute ce l'ho Se io prendo sto coso E salgo 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 Ok Salgo il più possibile E faccio la caduta più lunga Senza non è alcuni vuol dire che devo attivare Tipo il paracadute all'ultimo secondo Direi che questa è la sfida perfetta Per aver comprato il thruster In realtà a livello di comodità Penso di aver sprecato 4 milioni eh Perché non è così veloce Non è così facile andare in giro È un po' tozzo Non so come usare tra l'altro il Il coso Il nos Sto salendo Sì sto salendo Io ci provo a non morire eh Poi magari muoio lo stesso Allora mi sa che sono abbastanza in alto Perché vedo tutto allo santos da qua in alto Lui c'è un po' paura Guarda lo che muove la testa Non capisce più un kaiser Che faccio mi butto? No vabbè Perché riusciamo a salire saliamo ragazzi Un paio di razzi a mozzo Tanto non sono infiniti Perché abbiamo verificato che non sono infiniti Con la vigilante Però meglio di niente Ci proviamo? Proviamoci Ok Ok Caduta più alta senza morire Devo decidere quando attivare il paracadute Io attiverei tra 3 2 1 Boom Io direi che non sono morto Dovei avere Una Dovei avere qualcosa Ehi Forse perché non sono ancora atterrato Ma dovei ricevere un premio Sono vivo Il mio punteggio? Oh il mio punteggio? Forse devo cadere anche col jetpack Ma ho una domanda ora Il mio jetpack dov'è? Ok forse per caduta Non intendeva caduta col paracadute C'è qualcuno con l'elicottero che si sta avvicinando Magari è quello che ho ucciso prima Che si vuole vendicare Potrebbe essere Ma penso che qua nessuno sta facendo il punteggio E io sono contro vento Perché è un po' un problema Cioè faccio fare una caduta come si deve? Ok Oh ma i punteggi non me li Non me li prende Ok sono morto come l'ho detto Che è successo? Ecco Roby Roby ha 9 metri di caduta Ma 9 metri di caduta Mannaggia Teo Roby veniva in caduta Mi sono buttato da 6.000 metri Oddio esplode Oddio Scappa Ehi Eccoci qui con il jetpack signori e signori Con il jetpack Partiamo a tutto razzo Io aspetta voglio capire come si usa il Ok con shift Puoi partire Usando Il Il nos Interessante Che dite proviamo a fare un po' di casino Io ci proverei ragazzi Non so poi Mettiamo i missili guidati Dai una stellina me la vorrai dare Dai Aspettiamo la polizia Buongiorno signor poliziotto Ciao Boom morto No l'ho mancato Boom Oh quanto veloce vai Non ce la fa Esplodi 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 Non esplode Non ce la fa Raga non ce la fa Che cazzo ho comprato Non ce la fa lanciare i missili Allora missili Ci vuole un genio per lanciare i missili alla polizia Pensavo di no Ecco Questi in dato mi sparano Io Da qui non sono protetto Forse era meglio la mitraglietta ragazzi Vedrò la verità Cioè una macchina la prenderai anche No Non ce la fa L'acquisto peggiore I 4 milioni Peggio spesi Peggio spesi vi dico Cioè guardate E' fighissimo E' una figata pazzesca L'ho dovuto comprare proprio Per ricordo di GTA San Andreas Ma La cosa più brutta del mondo Questa è bella Solo per fare i duelli Contro qualcun altro Che c'ha il thruster Basta Poi che nebbia c'è Mi spiegate che nebbia c'è Una cosa positiva Con sta roba riesci a Sfuggire a tutti A tutta la polizia Non so chi è che ti insegue con sta roba Manco gli elicotteri ce la fanno Ah vai vai Cazzo c'è un elicottero Un elicottero ce la fa E la romperlo Alleluia Terra ed entra nell'ufficio E direi che per questo video Può essere tutto Vi ho mostrato come sprecare Un botto di soldi Ma quant'anni piace Ragazzi non si vede niente Dove siamo? A Padova? Buongiorno Ragazzi per questo video è tutto Io vi ringrazio tantissimo Per la visione Conoscere mi piace Se vi è piaciuto questo video Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto Scrivetevi su Twitter Instagram Facebook E ovunque voi vogliate E io vi saluto Ciao a tutti A tutti Ciao a tutti